a fare la merenda via a fare la merenda coraggio ma siamo tanto e poi si potrà assaggiare questa marocca certo marocca e come come benissimo diceva a quel tale quando si tratta di mangiare e bere accetto l'invito e lascio ogni mestiere e che cosa c'è una stalla una stalla c'è la mucca c'è la cosa meravigliose ma che giornata di sole ma dica la verità ma come ci si fa a credere ma come ci fa chi lo direbbe di questa stagione tutto questo qua e tutto questo ben di dio e qual è la marocca eccola lì questa scura si no allora questo è un momento di grande emozione per il professor montanari la marocca l'apra vada e lei ne ha scritto facile facile io l'ho letta con no 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 l'assaggia lei l'assaggia lei pane di farina di carta ecco dopo averne tanto scritto finalmente è buono il pane dei poveri si accompagna bene questo pane con la fame il formaggio è più indicato la signora ha detto che si accompagna bene con la fame con la fame noi un po' te l'abbiamo noi dobbiamo fare la nostra tavolata finale professore io la taglio finino eh lo taglio finino eh non si ha un sabbia a dire eh che si che si spreca eccolo qua ecco pane lo provi a tagliare con il formaggio anche anche lei lo conosce però ma era tanto che non si rivedeva il pane eh sì bisogna farlo apposta apposta il vino e abbiamo fatto la nostra merendina devo dire che adesso arriva l'elicottero e ci porta la tavolata finale il bicchiere lo vediamo ma il bicchiere lo facciamo eh un bicchiere e anche un pezzettino di formaggio tenga lei un pezzettino di pane adesso noi dobbiamo eh aspettare l'elicottero e nel frattempo ci vediamo un pochino di queste valli un po' della storia di questa valle con un po' di discorso su quello che andiamo a vedere adesso vale a dire la via francicena che cos'è la via francicena che è una cosa antichissima che passava di qua e quindi